Armi ed esplosivi illegali, beccato in casa con 5 ordigni letali, rompono gli artificieri, denunciato 51enne. Gli uomini della squadra mobile hanno denunciato un uomo di 51 anni per possesso illegale di materiale esplodente. A seguito di mirati servizi finalizzati al contrasto della detenzione illegale di armi ed esplosivi, gli investigatori diretto dalla dottoressa Di Natale hanno effettuato una perquisizione domiciliare che è consentito di rinvenire a sequestrare un ordigno costruito con l'utilizzo di due prodotti esplosivi illegali saldamente legati tra loro da un nastro adesivo, 4 ordigni denominati Black Thunder privi di certificazione CE e con elevata potenzialità esplosiva e potenzialmente letali. Attesa la pericolosità degli ordigni, sono stati fatti intervenire gli artificieri della Polizia di Stato di Catania che con le cautele del caso hanno preso in consegna il materiale esplodente.